Buongiorno a tutti e bentrovati con la nostra rassegna stampa. Vediamo come ogni mattina insieme le notizie di oggi, venerdì 15 maggio. Iniziamo proprio con il quotidiano del Molise. Troviamo la cronaca in prima pagina, abusi sessuali, arrestato culturista. Gli episodi di presunta violenza sarebbero avvenuti a Foggia, a 35 anni, ed è di Campobasso. Ieri è stato portato in carcere dai poliziotti della squadra mobile. Ancora cronaca, Campobasso, omicidio Laporta, l'imputato non volevo uccidere. Antonio Laporta è accusato di omicidio volontario, un anno fa sparò e uccise il fratello Vincenzo. Attualità, l'ordine dei medici mette al bando un erbicidia, si chiama Gifosate, e sarebbe potenzialmente pericoloso per la salute umana. Conf cooperative, agricoltura e inclusione sociale per i diversamente abili. Vediamo nel taglio alto ancora cronaca. Macchia, Valfortore, muore anziano travolto da furgone in retromarcia. Una tragica fatalità, struncato la vita ad un uomo di 83 anni l'incidente ieri mattina in paese. Cocaina ed erba. La guardia di finanza e i carabinieri fermano tre persone a San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno. Termoli, donna cade dal balcone di casa, arresta il giallo, le sue condizioni sono gravi. Intanto la polizia ha ascoltato il compagno con cui la donna conviveva. Nel taglio basso, una notizia che riguarda Campobasso, precisamente il concertone del Corpus Domini in piazza Prefettura. Per ora è solo un'ipotesi molto accreditata che aspetta la conferma. Vediamo lo sport Serie D. Lupi, attacco acciaccato, Di Gennaro out, Todino in dubbio. Ancora Serie D. Lo spareggio tra Agnone e Castelfidardo si giocherà a Francavilla. Ex Rosso-Blu, Giorgio Corona parla della sua avventura a Campobasso. Ora è impegnato nei play-out col Messina. E passiamo al quotidiano online futuro Molise. Vediamo insieme le notizie di oggi. I Sernia, Lai e Associazioni Apicoltori Molisani con Unimol hanno inaugurato il percorso dei sensi a Sant'Agapito, agricoltura e apicoltura sociale. Fratricidio la porta in aula alle deposizioni del perito e dell'imputato. Non volevo uccidere mio fratello, volevo solo spaventarlo. Zuccherificio del Molise, riunione al Mipaf, confermate le quote di produzione per campagna saccarifera 2015-2016 per la società Nuovo Zuccherificio. SRL Facciolla esprime soddisfazione. Da futuro Molise leggiamo adesso le notizie di primo piano Molise. Tagli alle indennità i comitati rilanciano. Non finisce qui bocciato il disegno di legge popolare. Gli indignati annunciano un ricorso alla consulta. I nuovi vitalizi di Palazzo Moffa sono incostituzionali. Izzo torna alla carica e ricorda a Frattura l'impegno assunto con l'iniziativa Rinunci a Satana. Ieri il vertice a Roma. Il ministero autorizza la campagna a salve le quote dello zuccherificio. Regione e Niuco adesso lavorano al piano operativo per la stagione. Nel taglio alto la cronaca a Campobasso. Violenza sessuale, atti osceni, luogo pubblico arrestato. Noto culturista. Termoli giù dal balcone grave la donna polacca. Sul caso indaga la polizia. C'eravamo tanto amati. Volano gli stracci in casa a costruire democrazia scintille tra Romano e Monaco. Dopo il voto contro la riduzione degli stipendi alla casta l'avvocato attacca mi vergogno per lui. La replica se fossi stato eletto tu saremmo tornati nelle mani di Iorio. Isernia, sit-in di protesta dei medici del Veneziale. No al trasferimento al Santissimo Rosario. Ancora cronaca a Campobasso. Delitto la porta all'imputato. Volevo bene a mio fratello. Il colpo è partito accidentalmente. Ieri altra audienza in tribunale. Antonio ripercorre i fatti del 25 maggio scorso. A Boiano fila troppo lunga il CAF. Va a giocare al 10 e l'8. Punta un euro e ne porta a casa 30.000. Vediamo lo sport. Paolucci aspetto i lupi ai playoff. La Lyonese può vincere lo spareggio. Possibile svolta. Isernia, Falzarano torna di moda per salvare il club bianco celeste. Giro d'Italia. Pollonio decimo sull'arrivo di Castiglione della Pescaia. La tappa molisana, ricordiamoci, sarà sabato domani. E adesso vediamo insieme la gazzetta del Molise. Scopriamo insieme a chi viene assegnato oggi l'Oscar e a chi invece va il tapiro del giorno. Il titolo centrale. Tutti in piazza contro il costo della casta. Oggi ricordiamo in via Genova manifestazione della triplice di CGL Cisle Will. L'Oscar del giorno va a Fiorina Reale, mentre il tapiro del giorno al consigliere regionale Salvatore Micone. Ne scorriamo e andiamo a pagina 2. Il problema è negli uomini e nelle donne di Palazzo San Giorgio, privi di un barlume di cultura politica e amministrativa, che li accompagni. Ogni cosa, ogni scelta, ogni decisione risponde a un committente, a un potente, a un prepotente. Mettere sotto tiro la chierchia motivazioni strumentalmente politiche. La salute non si tocca, sempre a pagina 2, mentre a pagina 3, Primavera Molisana. Il sit-in dei sindacati di oggi e la lunga manifestazione di frane molisane fanno sperare in una nuova stagione. La lettura dei cittadini, Black Block di Palazzo Moffa. Il secondo intervento del curiero sanita Giovanni Muccio. Sotto i piedi, la volontà dei cittadini. Passiamo adesso all'altro quotidiano online. Informa Molise, leggiamo anche qui tutte le notizie di attualità di questo venerdì. Terminus Formazione, aperte le iscrizioni al nono corso di somministrazione. Agevolazioni per i contratti di sviluppo. Domande dal 10 giugno. Rete salute mentale, attendiamo da mesi risposte e azioni concrete dalla politica. Bodybuilder in manette, pesante, l'accusa, violenza sessuale. Autorizzazione Energonat, Cotugno ha vinto il lavoro di squadra e il rispetto delle procedure. Guardia di finanza Campobasso, altro colpo al mercato dello spaccio. Sequestrati 100 grammi di cocaina, arrestato albanese. Cacciavillani, concluso il sopralluogo, l'andocciata sfilerà sui navigli per Expo 2015. Primaria azienda, cerca esperto contabile. Passiamo adesso alle notizie che riguardano sempre la regione Molise, che sono riportate sul Sagno quotidiano. Si parla qui dello zuccherificio del Molise, ok da Roma per la procedura. Poi c'è la notizia di cronaca, Corrieri della Coca, albanese in manette, i finanzieri lo beccano con 100 grammi di droga. L'uomo era a San Martino in Pensilis per spacciare. E adesso vediamo insieme la stampa nazionale, leggiamo proprio i titoli di oggi, riportati sulla Repubblica. Si parla di scuola, precisamente di scontro sulla scuola, pronti a precettare i professori ribelli. Il garante blinda gli scrutini dai sindacati, appello alle Camere, corruzione e monito di Mattarella. In Italia concezione rapinatoria, prescrizione più breve per i reati contro la pubblica amministrazione. Il Parlamento più gay del mondo, l'ultima rivoluzione di Cameron. Tra conservatori e laboristi, 32 deputati, è il 5%. Nuovo impasse per Renzi, RAI, la riforma può slittare, allarme di Palazzo Chigi, nuovo CDA, eletto con la Gasparri. La sentenza, fecondazione via un altro divieto, diagnosi preimpianto, a coppie con patologie. Passiamo adesso al Corriere della Sera. Qui troviamo la cronaca. Kabul, attacco agli stranieri, un italiano ucciso con la compagna kazaka. I talebani rivendicano l'azione. Strage in Afghanistan. Il commando ha perlustrato ogni stanza del residence per 5 ore e 14 le vittime. I tempi della prescrizione saranno ridotti. Mattarella indigna, la corruzione è diffusa. Politica e giustizia ha trovato l'accordo nella maggioranza tra il PD e gli alfaniani. Il sondaggio, Emiliano e Zaia dominano. Il piano Marshall alla cinese per contrastare gli Stati Uniti, la strategia di Pechino. La rete di Terna per l'operazione internet veloce, infrastrutture elettriche, nuova ipotesi. Anche qui si parla di fecondazione, cancellato un altro divieto. La consulta ammette la diagnosi preimpianto, mamme quarantenni, il record italiano. Ipotesi, precettazione, scrutini bloccati, mossa del garante. Insulti omofobi alle calciatrici, il successore di Tavecchio. E adesso vediamo la pagina del tempo. Chiedono asilo e occupano i palazzi. Emergenza e migrazione negli ultimi 4 mesi. 23.000 richieste dei rifugiati nella capitale. Ecco la mappa degli stabili, pubblici e privati rubati dai clandestini ai cittadini romani. La regina dei salotti romani picchiata e derubata in villa, arancia meccanica, casa della Federici. In Campania e Liguria il PD rischia Berlusconi a Bari controfitto il pasticcio Fornero. Assegni fino a 10.000 euro per i pensionati fortunati. Carminati sulla Orlandi, invenzioni del pentito, il giallo della Spy Story, Vaticana. Nel taglio alto invece troviamo lo sport, derby spostato, guerra tra Lazio e Roma, stracittadina posticipata lunedì pomeriggio, oggi la Lega decide. E passiamo proprio alle notizie di sport leggendo insieme la Gazzetta. Questi ragazzi possono affondare il Barça, un centrocampo come quello con Pirlo più Pogba è in grado di togliere i rifornimenti ammessi e soci. Giro d'Italia, una caduta assurda, Contador spalla KO ma riparte. Napoli, Guain stoppato in Ucraina, sfuma la finale. Anche Dybala dice sì alla Juve per 32 milioni. Una notizia invece di tennis, Fognini addio a Roma tra applausi e matrimonio. Il commento, perché la Juve va, Viola e Napoli no. L'analisi invece di Arrigo Sacchi, un capolavoro programmato. L'intervento, le colpe di Perez e i pregi catalani. Bene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi lascio ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per venerdì 15 maggio. Tempo stabile e per lo più soleggiato, tuttavia il calo della pressione determina un aumento della nuvolosità stratiforme, che risulterà anche compatta con qualche piovasco in arrivo su Basilicata, Ovest Molise ed Alta Puglia nel corso della notte. Venti in rinforzo da sud-ovest con mari da poco mossi a mossi. Temperature stabili o in ulteriore rialzo ma in calo dalla serata. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 16, massima 26 gradi. Isernia minima 17, massima 27 gradi. Termoli minima 20, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli.